hai la fortuna di guadagnare più di 35 mila euro lordi all'anno attenzione che se superi solamente di un euro il tuo guadagno potresti perdere nel 1100 è quanto è previsto nella clausola della decontribuzione che è contenuta nella finanziaria 2024 che il parlamento sta per approvare e questo è un altro che uno dei tanti segnali di un continuo impoverimento di quella che una volta era la classe media un continuo abbassamento dei livelli di reddito e in quelli italiani sono già i più bassi dell'europa e negli ultimi vent'anni sono addirittura andati in negativo che il governo meloni il primo di centrodestra da un bel po di anni a questa parte della repubblica non fa nulla per invertire anzi si comporta come se fu come e meglio di un governo di sinistra ne parliamo in questa puntata dello schiacciassassi ma prima vi ricordo di mettere il mi piace e di condividere i contenuti con i vostri amici a tra poco dopo la sigla cari amici vicini lontani bentornati alla nuova puntata dello schiacciassassi da parte di stefano elena il governo meloni dovrebbe essere un governo di centrodestra il primo di una lunga serie di governi centrosinistra che ha governato la repubblica almeno negli ultimi vent'anni con qualche parentesi dei governi tecnici che hanno avuto anche non tanta buona sorte però il problema fondamentale è che con la finanziaria 2024 e con la sforzo di tutelare coloro che guadagnano di meno si finirà inevitabilmente per penalizzare tutti coloro che guadagnano un pelino più di un reddito da operai un reddito da povero si potrebbe dire perché coloro che hanno un po fatto un po di carriera magari hanno un'attività che da funzionario in qualche azienda o nella pubblica amministrazione perché hanno avuto una laurea e che poverini loro guadagnano 35 mila euro appena superano questa soglia dove scatta la decontribuzione si troveranno a perdere 1100 euro di sconti fiscali con il risultato che se per caso qualcuno gli saltasse l'uzzolo di fare un po di straordinario di avere qualche premio di produttività questi potrebbero costargli molto più di quelli che dovrebbero andare a guadagnare tant'è vero che tra chi si occupa di amministrazione di gestione del personale dell'azienda è scattato l'allarme rosso perché con le imprese che trovano sempre meno disponibilità di personale da assumere e con la richiesta di fare straordinari di fare premi di dare riconoscere il merito dell'impegno delle persone vi dicendo c'è il rischio che qua si inneschi un clamoroso boomerang e con la gente che ovviamente per evitare di dover pagare più tassi di quello che è dovuto dei maggiori guadagni ci sia un generale disincentivazione a lavorare di più e soprattutto a crescere nelle proprie responsabilità e anche indirettamente nei propri guadagni e se poi sfiga vuole che uno guadagni 50.000 euro l'ordi all'anno vuol dire praticamente netto in busta paga dai 2800 ai 3000 euro al mese un buon stipendio sì ma tutt'altro che da una babbi beh allora apriti cielo scatta la tassazione del 43 per cento e tutta una serie di penalizzazioni perché non si possono più avere le deduzioni c'è molta il taglio del cugno fiscale è un sogno e soprattutto si va a pagare molto di più tutta una serie di spese di fatto qua più che essere un governo del merito il merito è una parola che addirittura infisso nella definizione di un ministero quello della cultura e della scuola questo comincia essere un governo del demerito un governo dell'appiattimento un governo dell'affossamento di quello che è la responsabilità e soprattutto del quella che era una volta la classe media quella che teoricamente dovrebbe essere la spina dorsale dell'un paese quella che ha capacità di spesa quella che ha capacità di promuovere quella che ha capacità di far progredire una realtà ebbene però con il governo meloni e soprattutto con l'ausilio indefesso di un suo vice premier matteo salvini qua ci sta facendo la classica politica dal gambero invece che andare avanti l'italia va indietro e va indietro soprattutto in termini i redditi perché già negli anni scorsi l'italia era l'unico paese degli area oxe che era andato negli ultimi vent'anni con i redditi reali in negativo ovvero sia calati mentre di tutti gli altri sono cresciuti almeno a doppia cifra ecco non ci si lamenti se al giorno d'oggi tutti parlano di un'italia sempre più povera con la difficoltà di arrivare a fine mese con tutte le spese complice anche l'aumento indiscriminato dei tassi di interesse che si è rivelato soprattutto su quella circa 10 milioni di famiglie che hanno un mutuo casa acceso magari a tasso variabile ebbene qua c'è un problema di capacità di redditi e soprattutto di evitare di penalizzare coloro che hanno responsabilità coloro che hanno voglia di lavorare coloro che accettano di fare lo straordinario coloro che vengono premiati per quello che riescono a dare alle aziende e anche alla pubblica amministrazione quando anche in questo comparto vengono previsti dei premi di incentivazioni perché quando bene o male ci si trova di fronte alla scelta di dire lavoro un po di più guadagno un po di più però occhio che se guadagno un po più della soglia di 35 mila euro sono cornuto e mazziato beh se non è un disincentivo se non è un appiattamento reddituale se non è una pialla della società vorrei sapere come si può definire altrimenti questa situazione e da un governo di centrodestra si sarebbe lecito aspettarsi giusto l'esatto posto però così non accade e qua sembra quasi che un certo soggetto che ha fatto politica e che in vita sua non ha mai lavorato che si è sviluppato che ha attichito nelle aree del che leoncavallo come matteo salvini probabilmente qua emerge tutto quello che è il suo bagaglio da ex comunista padano del parlamento di chi non lo può però il problema fondamentale è che manca tutto quello che è un buon assunto del liberalismo del principio della crescita il principio della responsabilità il principio del merito che al di là delle insegne dei ministeriali nel governo meloni attuale manca totalmente e invece di impegnarsi per poter valorizzare coloro che si impegnano coloro che si prodigono coloro che crescono e che magari si arricchiscono parola che agli occhi dei più suona come uno sterco bisogna cercare di invertire la tendenza e dare la possibilità di muoversi di crescere se un paese non lo fa è destinato ovviamente a implodere su se stesso con giovani che non escono che escono le famiglie sempre più tardi che fanno meno figli con una crescente pessimismo sul proprio futuro proprio opposto di quello che servirebbe per poter ridare slancio per poter ridare un futuro a un paese che sta sempre più invecchiando sta sempre più guardandosi l'ombelico invece che guardare al proprio futuro c'è ancora tempo per cambiare e sarebbe opportuno che più che guardare sempre a proteggere coloro che sono già protetti coloro che pagano di fatto pochissime tasse e soprattutto sono per settori netti di servizi pubblici erogati dallo stato e ricordiamoci che il 60 per cento del totale gettito fiscale è appannaggio solamente di un 15 16 per cento di contributori netti che pagano e non incassano assolutamente niente da parte dello stato perché quando hanno bisogno anche di fare una visita pubblica una visita sanitaria sono costretti a pagarla perché altrimenti devono aspettare mesi e mesi sono addirittura anni per poterla avere in regime di mutua ebbene a costoro va dato un maggiore spazio va dato maggior riconoscimento e non semplicemente essere continuamente mazziati e cornuti dal primo governo del centrodestra cari amici vicini e lontani in questa puntata dello schiacciassassi termina qua prima di salutarvi vi ricordo di mettere il mi piace di condividerne i contenuti da parte di stefano aida un arrivederci e un appuntamento alla prossima puntata sempre che lo vogliate